Allora, la voce è stato quotidiano, che è un quotidiano online di Manfredonia, benvenuta a Manfredonia, complimenti per tutto, per essere donna, per essere una persona che ha segnato la storia del nostro cinema. E poi intanto cominci a dire che tu ti sei di qua e io là. Ecco, perfetto. Siamo d'accordo così? Il bello della diretta? No, il bello è questa rituale. Ah, è. Già è bella e alta. Allora, la motivazione per cui si è mossa una star del genere, una regista del genere è un omaggio che tu farai alla cittadinanza. No, ma la fa piacere a me, scusa, io trovo che questa è una regia bellissima. E non so neanche se è il giusto fargli tanta pubblicità, perché da una parte poi per arrivare i turisti che stendono conto. Bravo. Allora io non so se è meglio che arrivino tanti turisti oppure no. Il progetto della città vuole accogliere il turismo, infatti l'agenzia del turismo che sarà presente tra poco farà proprio questo. Che farà? Farà tante cose, tra cui una cosa che le riguarderà personalmente, ma verrà contattata in un'altra sede. No, ma io dico che farà rispetto alla vecchia. Il raggio di azione di questa città, aprendola al turismo in varie maniere, in varie sfaccettature. Io voglio dire, se voi vi aprite di più al turismo, siccome la regione è bellissima... È un paradiso selvaggio, infatti, di Cargano. E' ancora abbastanza vergine, diciamo. Bisogna farlo. No, parlare o parlo io, non rompere le scatole. Tra frate. Ah, posso parlare? Sì. Volevo dire questo. Proprio perché è un paradiso. Ma molto ben studiato come aprire al turismo. Perché i turisti soffecciano i cavalletti. Sì, vabbè, portano dei soldi, però distruggono tutto quello che poi fa venire dei soldi. Quindi, attenzione, un circolo prezioso. Certo, facciamo venire i turisti, però scegliamo bene le zone dove mandarli e saldiamo le altre. Perché voi qui avete ancora delle cose veramente preziose. Ecco. Grazie. A me viene subito da farle una domanda farlocca, se posso. Ecco. Sarà banale, le avranno fatte in mille in mille. Però l'idea, la genialità di avere un film con un titolo lunghissimo, come le viene? Le pazza di notte. Le immagazzina in un anno e poi le esplode. Cosa succede dentro di lei? Nasce dal fatto che sono rispettosa. E allora, siccome so che in generale i produttori amano i titoli con una parola, migliale per l'ora io, ecco, per l'ora ho scrivono questo grosso, e allora io, questo è proprio un rispetto. Faccio sempre dei titoli lunghissimi, però è una finta, perché poi la terza è l'opera solo la prima parte. Cosa ne pensa del cinema d'autore italiano oggi? Insomma, noi facevamo 250-300 film, ne facciamo 25-30, che devo pensare che la ragione... Di chi è la colpa? Eh, anche nostra. Perché? Perché le cose vanno amate, vanno difese, vanno aiutate, vanno spostate, e qui invece c'è un carocco artista di me che è caratteristico di noi italiani, c'è un'attività di virtù ma anche di potenza. Secondo lei, una persona di spettacolo quale Grillo, attualmente predestinato forse a governare l'Italia, potrebbe avere un occhio di riguardo per gli artisti? No, dobbiamo parlare di Grillo? No. Ma non ne parla abbastanza a lui stesso? No, voglio sapere se lui potrebbe fare qualcosa per gli artisti. Lasciatelo gridare, lui è un attore che grida, si è fatto sentire, ha avuto successo, adesso andiamo, perché una cosa è distruggere, che è facilissima, un'altra cosa è costruire, molto difficile. Io direi che la piccola intervista è il tempo prezioso di Lina. Assolutamente uno staff meraviglioso e l'assistenza è stata molto professionale. Bene, io vorrei subito qui al nostro fianco, perché con lei andremo a vedere un po' tutto il programma, ci dirà due parole su ognuno di quelli che saranno gli appuntamenti di queste due giorni. E' con lei che ha voluto tutto questo e coordinerà tutti i lavori. Rita Rungelli. Buonasera Rita, appropriati del microfono. Buonasera a tutti. Bene, possiamo allora già dare, entriamo nel vivo, visto che siamo già un po' in ritardo. I lavori del cantiere devono incominciare. Devono incominciare, li annunciamo e giusto qualche parolina su come sono venuti fuori, come si è pensato di farli e anche cosa si è dovuto fare per organizzarli. E soprattutto che cos'è il cantiere Ottomarzo? Perché qualcuno magari se lo chiederà. Ma forse la prima domanda è qui, che dovremmo rivolgere a te. Sì, che cos'è il cantiere? Allora, questa idea è venuta veramente, ce l'avevo già un po' nella testa, perché sentivo proprio l'esigenza di incominciare a incontrare le donne, ma non perché dovessimo parlare di noi stesse, ma perché vedevo incontrandole nei vari contesti, nella vita privata, tante donne, tanto valore, tanto talento, tanta energia, che... Eh sì, parlavamo di padroni di casa, poi alla fine noi siamo ospitati comunque da una struttura che ha tutta una storia, con il comune, per questo che è il grande progetto del LUC, quindi con grande piacere sale sul palco l'assessore alle varie opportunità del comune di Mancadonia, la nostra Antonietta Barrecco, Antonella per gli amici. Buonasera, benvenuta. Io volevo ringraziare la signora Rilla, per aver organizzato questo incontro, non potevo che accogliere con senso di responsabilità questo invito, perché si parla di violenza, perché sensibilizzare la società su questo tema è ormai diventato un dovere sociale. Simona Salatto è la moderatrice di questo panel, Antonella Carusso, giornalista del Corriere della Sera, quindi salutiamo tutte, le ringraziamo ovviamente per averci raggiunto, che chiedo naturalmente, vorrei partire proprio anche dalla nostra ospite antropologa. Io insegno anche, insegno nelle scuole superiori, in cui insomma i ragazzi sono, i ragazzi e le ragazze sono in quell'età di passaggio particolarmente importante e delicata. E quello che ho notato in questi anni è una sorta di minore consapevolezza delle ragazze del doversi in qualche modo attrezzare culturalmente per poi affrontare, come dire, da pari a pari, il ragazzo, il padre, il datore di lavoro. Cioè io quello che ho notato è una minore consapevolezza delle giovani generazioni e non solo delle ragazze, anche e soprattutto di ragazze. Quello che io invece notavo è una contrapposizione fra disinformazione rispetto alla questione femminile, anche ai diritti e doveri che un soggetto uomo e un soggetto donna possono esercitare. Dall'altro lato però anche una voglia, una volontà di capire, di comprendere, di imparare nuovi linguaggi del cinema italiano, Lina Lerlull, che si accoglierà dopo aver ascoltato questo applauso e che si è visitato veramente col cuore, col cuore. Grazie Lina per essere venuta qui, per aver accettato il nostro invito. Tremonti, questi tagli alla cultura, ma perché non tagliamo lui? Ecco, questa è Lina Lerlull, la voglia ancora di donarsi, di voler raccontare storie. Veramente tanto Lina Lerlull per essere stata con noi, per aver condiviso questa chiacchierata, per averci raccontato un pezzo della sua vita, tante altre cose magari le ritroveremo nel libro che tutti compreremo e ci leggeremo per rilassarci, per tuffarci in una vita solare, come dice Lina Lerlull, per sorridere e per stare in compagnia ancora di una grande, prima che di una grande regista, di una grande vera donna. Buonasera. Buonasera. Allora, ringrazio quindi Lina Lerlull. Veramente un abbraccio da un antredogno, un abbraccio dal cantiere. No, no, l'unica cosa seria è che se questo nostro piccolo incontro serve per darvi la voglia di volare. Grazie. Grazie.